Wow! Fate il bagno alle mucche lì dentro! Oh no, Summer! Ci versiamo dentro tutto il latte dei nostri contenitori. Lo riscaldiamo e lo mescoliamo lentamente. È così che fate il gelato? No! Questo è per il formaggio, mentre questo è per il gelato. Qui dentro viene raffreddato e mescolato rapidamente. Questa è la parte che mi piace di più! Mettiamoci al lavoro! Vado a prendere dell'altro latte fresco. È tutto così fantastico! Sì, ma qui fa sempre più caldo! Sto iniziando a sudare sotto tutta questa lana! Ricordate, dobbiamo mescolare i due preparati fino a quando non sono super densi! Sembra così rilassante! Ci vorrebbe un pettine così anche per me! Ho portato la fruta! Oh no! Tutte quelle albicocche andavano nel gelato! La macchina si è rotta! Tranquillo, Pico! Vorrà dire che cambieremo strategia! Torno subito! Possiamo usare questi per mescolare il latte a mano! Amici, è stata colpa mia! Lasciate fare a me! Ma quanto manca ancora? Mi sta venendo fame! Oh! Anche a me! Dobbiamo controllare il gelato! Almeno questa macchina funziona ancora! Vado a prendere altra frutta per il gelato e uno spuntino, visto che ci sta venendo fame! Wow! Ora sì che inizia a sembrare gelato! Mangiamolo! Non così in fretta, Betty! La macchina deve prima raffreddarsi! E poi dobbiamo aggiungere qualche altro ingrediente! Sono tornato! Quindi adesso abbiamo gelato al burro di arachidi, banane e cracker? Si è rotta anche questa macchina e fa troppo caldo, Todd! Come ce la caveremo senza gelato? Sono tornata! Perché siete tutti così tristi? Abbiamo rotto le tue macchine e aggiunto tutti gli ingredienti sbagliati! E ora non avremo neanche il gelato per rinfrescarci! Mi dispiace, Molly! È tutta colpa mia! A dirla tutta, Pico! Questa è la nostra occasione per iniziare da capo e fare anche di meglio! Ta-da! Ecco fatto! Come nuova! E adesso è ancora più potente di prima! Ottimo lavoro, Todd! Adesso dobbiamo solo metterlo nel contenitore, capovolgerlo e lasciarlo stagionare! È così che si fa il formaggio! Wow! Segui le avventure dell'Allegra Fattoria su YouTube!